Ci sono stati diversi incidenti soprattutto in questi ultimi giorni, secondo te ci sono delle soluzioni, anche perché gli autoverux ci sono, ce ne sono anche tanti? Beh, secondo me sicuramente la prima cosa per gli incidenti è non correre, proprio la base, perché io sto facendo scuola guida adesso e ci stanno insegnando che correre non serve a nulla e se molta gente corresse meno ci sarebbero molti meno incidenti. Beh, dipende anche tra quali incidenti, se si parla appunto di incidenti in macchina, cioè secondo me appunto non serve correre, perché comunque se magari dei passeggeri a bordo metti proprio a rischio la loro vita e pericolo, soprattutto se magari sono loro amici, hanno delle famiglie a casa che magari si preoccupano di tutto quanto, quindi bisogna sempre guidare con prudenza e questo. Ma bisognerebbe forse avere un po' più di accessibilità al centro, magari avere un po' più di disponibilità di mezzi alternativi, anche qua stiamo arrivando alle stragi del sabato sera di nuovo, forse di anni fa, ma non è neanche più una questione di Verox, forse un po' più informazione, un po' più di accessibilità appunto magari al centro, che la gente non si sposti per andare fuori, per migliorare le cose qua. Beh, secondo me innanzitutto non si può dire solo velocità o alcol eccetera eccetera, per me i platani nel 2022 non ci dovrebbero più essere lì in quelle strade lì, ma dovrebbero essere nelle campagne e in tutti gli altri luoghi dove non creano pericolo, possono creare incidenti e morti.